Tutte queste cose rimaste qui nel tempo, per molto tempo, sono un po' il frutto dell'insistenza di Alfredo Calmozzi, quale un giorno mi ha detto «Taghetta e dà Margot da stampare» e gli ho dato un po' di pagine di questo mio romanzo, descrizione di prigionia. Il mio disegno, uno dei primi appena fatto prigioniero, eravamo in un carro bestiame, cavalli 8, uomini 40, invece eravamo molti di più, qui siamo stati ammassati, chiusi per diversi giorni, con una cassetta di sabbia per farci l'urina e tutto il resto, immaginate come si viveva. Questo pezzo di reticolato girava tutto intorno ai campi ed inserivano anche la corrente elettrica e di fatti qualcuno è morto per quello, magari per appenderci sopra un panno a asciugare.